che è successo qua cos'è successo qua che è successo qua che è successo qua savermita milan 2 2 merda oh com'è siete andati fuori dalla coppa italia vedi non siete una squadra di merda siete siete dei buffoni come allora aspetta se per caso l'inter vince domani va solo a più 11 anzi scusa meno 11 è più bello dirlo più più 11 no meno 11 andate voi che freddo che fa prendete dell'arancia che vi serve la vitamina c perché con il freddo se quando vai in montagna tutti prendono una spremuta vitamina c per voi milanisti una bella spremutina salernitana tonino candriva pippo mio 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 come ti adoro e che bello che fai lo sgambetto ai milanisti pippo pippo mio pippo mio mamma che figata siete una squadra di merda avete fatto cagare leao inesistente giro inesistente vi è andata di culo vi è andata di culo avete pareggiato ringraziato il cielo che portate a casa a un punto ma intanto se domani vinciamo meno 11 meno 11 fa un freddo che mai merde vi saluto iscrizione al canale lasciate un like commentate ciao merdine milaniste ciao meno 11 copritevi che vi viene il raffreddore ciao